Ciao ragazze, questo è il look sull'inverno 2010-2011. Come potete vedere risaltano molto le labbra che questo inverno si useranno con questi colori molto forti come appunto il viola, anzi io ho fatto un viola chiaro però proprio si usa il viola scuro, scurissimo, non sono abituata a vedermi con questi colori forti, quindi per ora ho messo questa tonalità più chiara. Poi col tempo chissà. E niente, poi questo è il trucco degli occhi. E niente ragazze, spero vi piaccia e possiate prendere spunto per fare anche voi questo trucco. Ciao, seguite il tutorial! Comincio ad applicare la base della luna, la numero 01, su tutta la palpebra mobile. Così, e vado a sfumare con le dita. Portandolo sotto l'arcata sopraccigliare. In questo modo. Con un pennello a lingua di gatto prendo questo colore fucsia che è della palette Deborah e lo vado a tamponare su tutta la palpebra mobile. Con un pennello a lingua di gatto. con un pennello a lingua di gatto. In questo modo. Così. E poi con questo pennello da sfumatura vado a prendere sempre della stessa palette Deborah questo colore oro. Non ne prendo molto, solo un po' e lo vado a sfumare sopra il fucsia. Ne prendo ancora un po'. E risfumo. E risfumo. Sto facendo questa operazione perché? perché perché il colore che volevo ottenere era proprio questo. Però non avendolo ho mischiato questi due colori. E sfumo bene bene. Ok. Poi vado a prendere questa matita verde dell'Avon della linea Color Trend e la vado ad applicare qui sotto l'occhio. In questo modo. e arrivando poi all'angolo interno vado a tamponarla leggermente. Così. Con questo pennellino più piccolo vado a prendere da questa palettina con tutte le tonalità del verde e prendere questo verde e lo vado a sfumare qui sotto insieme alla matita applicata prima. in questo modo. e poi sempre con lo stesso pennello e sempre con lo stesso colore vado nell'angolo interno dell'occhio e lo applico qui. e anche qui per dare luce. in questo modo. In questo modo. Con questo pennello poi tondo da sfumatura vado a prendere sempre dalla stessa palette dei verdi questo colore bianco ed è un bianco opaco. e lo vado ad applicare qui sotto l'arcata sopraccigliare. applico l'eyeliner nero dell'astra. Ok. e questo è l'eyeliner. dopo l'eyeliner metto la matita nera dell'avon all'interno dell'occhio in questo modo. in questo modo. Per completare gli occhi applico il mascara. semplice mascara nero quello che uso di solito. vado a mettere un po' di mascara anche sotto. in questo modo. infoltisco un po' le sopracciglia con una semplice matita marrone. dilalare le forci in questo modo passiamo ora alle labbra con una matita viola è un viola molto intenso infatti è una matita per gli occhi dell'Avon andiamo a contornare tutta la bocca vedete quanto è intenso? e così abbiamo riempito con la matita viola e poi con un pennellino da labbra andiamo a portare la matita verso l'interno della bocca con questi movimenti ora vado a ripassare la matita viola per intensificare di più e poi applico la matita viola questo gloss trasparente per completare il trucco prendo questo pennello angolato per il blush e questo blush color rosa e lo vado a passare sullo zigomo e sulle guance e niente ragazze il trucco è terminato spero vi sia piaciuto un bacio, ciao!